Torino-Razio è terminata 0-2 Il Torino gioca in casa, perde contro la Lazio che fa ben due pallini e vince contro questa formazione calcistica A fare due gol nel secondo tempo, Guendosi e Cataldi Da segnalare, pensate, il cartellino rosso, quindi una espulsione per la Lazio nei confronti di Mario Gira Mario Gira infatti nel secondo tempo esce purtroppo dal gioco Statistiche tutte positive per il Torino rispetto alla Lazio, più possesso di pallina, molti più passaggi Ed una previsione di passaggi in percentuale più elevata Diciamo quindi che a reale statistico il Torino gioca meglio ma perde contro la Lazio Infatti ripeto che la Lazio fa ben due gol e vince Il Torino gioca in casa, la Lazio fuori casa e quindi non nello stadio olimpico della capitale Iscrivetevi mi raccomando, commentate e una buona sera da tutti